Bene, dal ciclismo passiamo al calcio e come avevo promesso, qui con me c'è Massimo Profeta che ci potrà dare tutte le ultime novità. Buonasera Marina. Buonasera Marina, a te e a tutti gli amici di Visione Ascolto. Intanto parliamo di Vergani che è stato molto sfortunato. Ieri la sua partita è durata 10 minuti, si teme una lesione ai legamenti, però insomma ci andiamo con i piedi di piombo perché domani si sottoporrà a risonanza magnetica. Vergani intorno alle 13 e 30 e conosceremo l'esito, conosceremo l'entità del problema accusato alla ginocchio sinistra. Davvero sfortunato questo ragazzo ha la quarta presenza da titolare. È chiaro che la Pescara adesso si deve cautelare sul mercato, vedremo domani intanto l'esito della risonanza magnetica per Vergani, però intanto Tommasini è andato al Monopoli la scorsa settimana in prestito. Dal Monopoli potrebbe invece arrivare Samuele Spalluto, se ne torna a parlare, si torna a parlare di questo attaccante che ha fatto molto bene due anni fa nel Gubbio, 11 gol, negli ultimi due stagioni Maluccio perché è stato prima a Terni in Serie B, ha giocato poco lo scorso anno, poi due gol col Novara e quest'anno 18 presenze, zero gol con la maglia del Monopoli, un classe 2001. Tra l'altro salirà in prima squadra Michael Zeppieri, l'italo-canadese di cui si parla molto bene, dalla Primavera 2 alla prima squadra, ha fatto 10 gol nel campionato Primavera 2, un 2006, ha appena compiuto 18 anni lo scorso primo gennaio, però è chiaro che è una soluzione tampone in queste settimane prima della fine del mercato, ricordiamo la chiusura del mercato invernale mercoledì 31 gennaio alle ore 20. Il Pescara dovrà ingaggiare Marina anche una mezzala, si fanno tanti nomi, Meazzi dell'Entella, c'è già l'accordo con la Pescara, però fa muro il club Ligure, anche se il ragazzo non rinnoverà con la società, con l'Entella perché vuole vivere un'altra esperienza, si tratta di un 2001 molto promettente. L'ultimo, il nome nuovo invece è quello di Valerio Mastrantonio, non è mai uscito in questi giorni, c'è stato un contatto tra il DS Dellicarri e il direttore sportivo, il suo omologo del Cittadella, perché è un giocatore che milita nel campionato di Serie B Stefano Marchetti, ha 24 anni, 60 presenze ed un gol con la maglia del Cittadella nelle ultime stagioni, è proprio la mezzala adatta per il gioco di Zeman, però in questo momento non è in uscita dal club Veneto, naturalmente si sondano altre piste.